Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi Viola di oggi. Andrà in scena questo incontro ormai atteso, palese, tra Andrea Della Valle e la squadra, Andrea Della Valle e soprattutto Paolo Sose, il suo allenatore. Avviene questo incontro di giovedì, quindi i programmi di Andrea Della Valle praticamente non sono cambiati. È anticipato di qualche ora il suo arrivo a Firenze e probabilmente, ve lo diamo in anteprima, non sarà domenica allo stadio in una partita molto importante, ma vedremo se cambierà idea o meno. La sensazione è che ancora una volta Andrea Della Valle arrivi a questo confronto troppo tardi, la proprietà della Frentina arrivi a questo confronto troppo tardi. Le cose quando non vanno, quando ci sono dei piccoli problemi, quando ci sono degli screcchioli, vanno risolte in fretta, in silenzio e lontane dai riflettori. Quando si arriva ad un momento del genere, ad un incontro pacificatore, diciamo così, sotto gli occhi dei riflettori, al 99% le cose non vanno mai bene perché a quel punto le cose si sono già incrinate e i protagonisti hanno già preso decisioni diverse. Questa è la sensazione, vedremo se questa volta andrà in modo diverso, ma crediamo assolutamente di no, crediamo che Sousa ormai abbia già deciso, che Sousa ormai abbia già scelto, che Sousa il prossimo anno non allenerà più la Fiorentina. Questo è quello che sappiamo e questo è quello che pensiamo, vedremo cosa accadrà, vedremo se Andrea della Valle riuscirà, come al solito, nel miracolo, ma nel calcio i miracoli si costruiscono in un altro modo, si costruiscono con altre tempistiche, si costruiscono con altre parole. A domani con i 101 secondi viola, un saluto da Marco Dell'Olio.